Herman Melville, Talpi, avventura in Polinesia. Sei mesi di mare, sì lettore, sei mesi passati senza veder terra, sei mesi a inseguire il capodoglio, sotto l'ardente sole dei tropici, e a tribulare sulle onde lunghe del Pacifico, il cielo al di sopra, il mare tutto intorno, e null'altro. Dopo settimane e settimane, le nostre provviste fresche erano esaurite. A bordo non c'è una patata dolce, non una sola batata. I magnifici grappoli di banane, che una volta decoravano la poppa e il quadrato, sono purtroppo scomparsi, e le deliziosi arance, che oscillavano appese alle nostre coffe e ai nostri stragli, anche esse non ci sono più. Sì, tutto è finito, e non ci resta altro che carne salata e galletta. E voi, passeggeri di cabine di lusso, che vi lamentate per una traversata di quattordici giorni nell'Atlantico, e che così pateticamente raccontate gli stenti e le privazioni del mare, perché un giorno vi è capitato di far colazione, pranzo e cena fuori dall'ora dei cinque pasti, senza chiacchierare, né giocare a whist, né bere poncia allo champagne, e la vostra dura sorte consisteva nello star chiusi in salottini di mogano e di acero, e dormire per dieci ore, con nient'altro che vi disturbasse, se non quei maledetti lupi di mare, che urlano e si accalcano in coperta? Che ne dite dei nostri sei mesi passati fuori di vista della terra? Che darei per un filo d'erba, e per odorare un pugno di terra grassa? Non c'è nulla di fresco intorno a noi? Non c'è nulla di verde su cui si possa fermare lo sguardo? Sì, l'interno delle nostre murate è dipinto di verde, ma questo verde è di una tinta così sporca e ripugnante che nemmeno una parvenza di vegetazione può fiorire a tanta distanza dalla terraferma. Perfino la scorza, che una volta rivestiva la legna, è stata rosicchiata e ingerita dal maiale del capitano, ma da tanto tempo il maiale stesso è stato a sua volta divorato. Grazie a tutti.